Posso soltanto augurare un buon lavoro a questo nuovo gruppo all'interno di Camera e di Senato e quindi insomma cercheremo di confrontarci con i nostri ex colleghi che sono appunto usciti dal Movimento 5 Stelle. Posso soltanto augurare un buon lavoro a questo nuovo gruppo all'interno di Camera e di Senato e quindi insomma cercheremo di confrontarci con i nostri ex colleghi che sono appunto usciti dal Movimento 5 Stelle.